Va in finale e vince una fascia al numero 19, Ligia Stoppa, Australia. La seconda fascia viene vinta dalla numero... ...dieci! Ligia U, dalla Cina. Altra finalista. E' la numero cinque, Donnelly Varderrama. E la quarta finalista è la numero quindici! Siva Sarami, Dallirama. Devo dire l'ultimo numero. Devo dire l'ultimo numero. E' il dodici, Roselyne Damian. Un applauso a tutti voi. Ricordiamo che tra queste ragazze si nasconde la Miss Small World. E' proprio così. E ora... E sono cinque. Le fasce sono sei. Attenzione. Attenzione. Le fasce sono sei. Perché c'è Miss Simpatia. Attenzione. Vuol dire che siete in gara tutte. Perché può essere una qualunque anche di voi, anche delle prime eliminate a vincere. Miss Simpatia. Miss Simpatia viene premiata da Andrea De Gasperi. Che lo invito a salire sul palco. Ciao Andrea, della MBA. La fascia è pronta? E' qui, è qui, è qui. Perfetto, la fascia è pronta. E io posso dire che la Miss delle Miss, eletta dalle ragazze stesse, all'oscuro totalmente della Giulia. La Giulia non sapeva niente. E' la numero... 16. Debra Caravona. Prego. L'applaudio del pubblico per la Miss delle Miss. Eletta con i voti delle ragazze stesse. Grazie. Grazie. Ok. E' il momento di andare avanti con le votazioni e di premiare Miss Media. Miss Media viene premiata da Marco Giovenzana. Marco. Ciao Marco, benvenuto. Miss Media. E' la numero... 15. Chiva Sarami. Miss Iran. E' Miss Media. Complimenti e l'applauso del Teatro Carcano. Miss Moda viene premiata da Elisabeth Licini. Benvenuta. E' già armata di fascia. Miss Moda. Prego, dirlo tu. Io non ce la faccio. Mi sono troppo emozionato. Quindi vai tu. Vai tu. Io non voglio più dire nessun numero. Vai. Miss Moda è la numero 19. La numero 19 di Giastoppa. Miss Italia. E' Miss Moda. Grazie a tutti per le premiazioni. Grazie a tutti per la premiazione. Miss Fotogenia è la numero 10, Alice Wu, Miss Cina. Siamo arrivati al momento. Come va? Tutto bene? Attenzione, un derby, Filippine-Filippine. Chi l'avrebbe mai detto? Un applauso alle Filippine che comunque l'ho già vinta. In bocca al luce. Sono rimasta in due. E io chiamo a premiare coloro che devono dare entrambe le fasce. Quindi sia la fascia di Miss Eleganza, Giuseppe Virgara, lo invito a salire sul palco, designer al Londra, benvenuto. E chiamo anche Alessia Di Maio per premiare Miss All World. È il momento di dire se vince la numero 5 o la numero 12. O la 12 o la 5 o la 15 o la 15 o la 15. O Filippine o Filippine. Miss Small World è... Non mi ricordo dove ho parcheggiato la macchina. Ma ci devo pensare. Eh, scusate. Miss Small World è... Non è giusto. Non sono io la persona più giusta per concludere questo percorso. Non sono io. Io voglio invitare sul palco, Patrizia Bermeo. Un microfono per favore. Patrizia, io non me la sentivo. Di dire chi vincerà tra loro. Io non me la sentivo neanche di dire chi passava il turno tra loro, onestamente. Non avrei voluto. Siamo arrivati alla fine di questo percorso. Questo che però è un inizio in realtà, non è assolutamente una fine. Come va? Allora come va? Buonasera a tutti. Veramente siamo qui grazie a tutti voi. Grazie per essere venuti e sostenerci. Perché questa associazione è nata da poco e mi ha dato l'opportunità di cedere il mio progetto a loro. Miss Small World è un sogno anche da piccola. Perché anche io sono piccola. Piccola grande, Patrizia Bermeo. Miss Eleganza è la numero 12. La vincitrice del concorso Miss Small World 2011 è la numero 5. Donald Trump, Walter Rama. Prima! Qua! Sì! Think I need a ginger ale That was such a never fail Pictures of last night Ended up on line Unscrewed Oh well It's a black dial blur But I'm pretty sure it ruled Damn Last Friday night Yeah we danced on tabletops Yeah we took too many shots Think we kissed but I could buy Last Friday night Yeah we mixed our credit cards And we kicked out of the bar So we hit the boulevard Last Friday night We were streaking in the park City dipping in the park And had a leisure time Last Friday night Yeah I think we broke the law Always say we wanna stop Up and up Last Friday night Do it all Yeah Do it all This Friday night Do it all 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 Do it all